Grave lutto per Donatella Versace, la grande commozione di Alessia Marcuzzi Grave lutto per la stilista Donatella Versace. A distanza di qualche giorno Donatella Versace ha rotto il silenzio sui suoi profili social dedicando un commovente post al suo caro amico e collega Luigi Massi. Quest'ultimo, che era anche lo stilista dell'atelier Versace, è morto di recente all'età di 57 anni a causa di un improvviso infarto. Per chi non lo conoscesse, l'uomo era il braccio destro del compianto Gianni e nel corso della sua carriera ha realizzato degli abiti per le più grandi star del cinema internazionale, della musica e della tv. . Infatti ha disegnato per Jennifer Lopez, Lady Gaga, Angelina Jolie e Naomi Campbell. . Il suo ultimo post che di recente aveva pubblicato su Instagram, lo aveva proprio dedicato al premio Oscar Lady Gaga. . Il post di Donatella Versace per Luigi Massi, il messaggio di Alessia Marcuzzi. . Il 57enne Luigi Massi era originario di Ascolti Piceno. . Purtroppo è deceduto nella sua casa di Milano e la sua cara amica Donatella Versace lo ha così ricordato su Instagram, con uno scatto che li ritrae insieme qualche anno fa sorridenti e molto felici. . . Ho il cuore spezzato, non riesco ancora a credere che non sentirò la tua voce. . Non riesco ancora a credere che non ti rivedrò più. . Riposa in pace Luigi non sarai mai dimenticato. . Ha scritto la sorella di Gianni sul social network dedicato alle foto. . Naturalmente il post in questione ha ricevuto tantissimi likes e commenti di cordoglio. . . Tra questi quello di Alessia Marcuzzi che è una cara amica di Donatella. . Ricordiamo, infatti, che la conduttrice dellIsola dei famosi 14 e delle Iene Show, in tutti i suoi programmi veste sempre Versace. . . Identica cosa sulle foto postate sui vari social network. . Alessia Marcuzzi e il post polemico. . Alessia Marcuzzi è stata criticata per una foto provocante. . La donna è seduta sul pavimento, allinterno di una camera da letto e appoggiata alla barra vicino al materasso. . La conduttrice Mediaset ha indosso solo un body nero con il vistoso marchio allaltezza del seno. . In poche parole si tratta di un costume della nuova collezione di Donatella Versace, sua cara amica. . La romana ha le gambe incrociate in primo piano e uno sguardo sensuale. . Lo scatto ha ricevuto migliaia di mi piace e tantissimi commenti sia positivi che negativi. .